il bmw group si rende sempre più protagonista nello sviluppo della elettromobilità e annuncia la produzione di batterie con celle agli ioni di litio rotonde che verranno installate a partire dal 2025 sui modelli della noie classe ovvero la nuova generazione di veicoli dell'azienda tedesca il gruppo ha già assegnato contratti a due cifre da miliardi di euro per la produzione delle nuove cellule tonde che saranno dotate di un diametro standard di 46 mm avranno due diverse altezze e garantiranno un aumento della densità di energia di oltre il 20 per cento il sistema di batterie giocherà un ruolo chiave nella struttura della carrozzeria della noie classe a seconda del modello potrà essere integrato in modo flessibile nel vano di installazione per risparmiare spazio non solo anche la batteria la trasmissione e la tecnologia di ricarica avranno una tensione maggiore di 800 volt ciò ottimizzerà il modo in cui l'energia viene fornita alle stazioni di ricarica ad alta potenza in corrente continua riducendo così il tempo necessario per caricare il veicolo